Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie della Wii Craft Ragazzi, nella scorsa live vi ho fatto questa cosa fantastica A parte, vabbè, i nostri piccoli e fantastici slime boots che in realtà sono molto molto utili E ragazzi, oggi voglio vedere cosa c'è qui dentro Sono stata K per tipo due giorni, quindi in realtà qui dentro dovrebbero stare c'è almeno un paio di diamanti Tre stack di diamanti, ok, va bene per quanto mi riguarda Perché effettivamente questa cosa è abbastanza lenta, quindi per ora possiamo anche contentarci Una cosa che mi sono dimenticato di fare nella scorsa puntata, che altro mi sono dimenticato di fare in live E' quello di farmi ragazzi una transmutation table, visto che comunque avete detto in live di farla, però non l'ho più fatta Quindi ragazzi oggi la faremo, per fare quella ovviamente abbiamo bisogno di poche cose che sono ossidiana e un po' di andesito o cose del genere Ho scoperto che in realtà possiamo utilizzare l'andesito, la diorite o qualsiasi cosa vogliamo noi al posto della normalissima stone Ed è molto molto buona come cosa, peccato che non abbia tipo dell'ossidiana, quindi devo andare a prendere un po' di ossidiana ragazzi Con quell'ossidiana vi faccio finalmente la nostra table Ho preso ragazzi l'ossidiana, quindi adesso andiamo a craftare tutto quanto, quindi vediamo un po' così ragazzi Boom, transmutation table fatta e ce l'abbiamo ragazzi Dobbiamo pensare da qualche parte, per ora la piazzeremo qui sopra alla fornace E qui dentro possiamo mettere ciò che vogliamo, per ora bruciamo per esempio un po' di apple Perché io ho bisogno di cibo ragazzi miei, quindi prendo giustamente questi diamanti che stanno qui dentro Per farvi una scorta di energia che non è niente male Infatti ragazzi questa energia l'utilizzeremo per fare tutto ciò che vogliamo, infatti abbiamo tipo un milione e mezzo già di roba E possiamo prenderci finalmente almeno uno stack intero di apple da mangiare In realtà mi servirebbero delle bistecche, però non vedo mob qua vicino, quindi mi sa che le bistecche non ce le abbiamo Perché le abbiamo anche copertate tutte, quindi bistecche forse non ci sono In ogni caso ragazzi devo farmi specialmente anche una nuova spada Visto che il mio piccolo in bronzo ci sta, è molto figo, molto bello Però vorrei farmi anche una spada E visto che ci sono vorrei mettere a cuocere un pochetto di ferro ragazzi Perché col ferro voglio farmi almeno uno di queste parti fatte in modo figo Perché in realtà vorrei che ci fosse almeno, e dico almeno, una parte con diciamo un ferro Che mi da magnetico come tratto E il tratto magnetico è molto utile perché mi permette addirittura di tipo di prendere velocemente la roba Come se avessi la magnet, però in modo meno citoso diciamo Quindi ci sta alla fin fine, è una buona cosa Devo anche buttare un po' di questa roba che non mi serve perfetto E quasi quasi, vabbè facciamo così, per il momento facciamo una spada in diamante Poi pensiamo in futuro di farcela in modo un po' più caino Soprattutto che non ho uno stick forse Vediamo un attimo di comunque insegnare un pochetto di cose a questa nostra transmutation table Che non è niente male E ci conviene parecchio ragazzi Perché ora possiamo fare di tutto ciò che vogliamo lì dentro Quindi perché no, ci sta come cosa Un'altra cosa che vorrei fare sicuramente oggi ragazzi È migliorare questa cosa Che in realtà mi sa che non funziona bene Come mai non funzioni bene? Perché non ha più asce? Ok, quindi devo cercare di migliorare questa cosa Per poterli creare più asce possibili E per poterlo fare in realtà il metodo più semplice è questo qua Ovvero vado a prendere un attimo questo collector ragazzi La vado a rompere, perfetto Dentro ovviamente non avrà più roba Però è importante che funzioni per il momento così Ci mettiamo questo qui dentro Le la insegniamo ovviamente E ne prendiamo un paio per inizializzare un paio di cosette Infatti ragazzi voglio mettere questa roba qui dentro Velocemente anche Perfetto, in questa maniera E così adesso avremo un attimo ciò che ci serve Allora vediamo un attimo cosa vogliamo modificare In sostanza Credo li faccio fare ovviamente sempre di diamanti Perché comunque mi interessa fare quelli Quindi perché no li facciamo molto veloci Perfetto, quindi in questa maniera facciamo dei diamanti Perfetto, e quindi lui in automatico li crafta Mentre per le altre cose ragazzi Io vorrei tenere quello in ferro Perché a più fine ci sta come cosa Però per quanto riguarda le asce Vorrei fare in questa maniera Vorrei un attimo metterlo magari qua Magari, ok E qua metterci un attimo un paio di cosette Comunque dei cavi Che mi permettono di fare il passaggio Il problema è che mi sa che mi serviranno dei transfer node Ma credo di avere comunque altri transfer node Perché non li ho utilizzati tutti Infatti ce li ho Forse i cavi non c'ho sapete Ce li ho, ce li ho, eccoli qua Perfetto Quindi con questi transfer node che facciamo ragazzi Semplicemente vado a dirgli che la roba che sta lì dentro Deve uscire, deve andare qui dentro, ok Che cosa deve uscire e cosa deve entrare dentro Deve entrare delle asce Che io vado a creare in qualche modo Mi sa che non me lo fa, non me lo fa entrare così Eh, questo potrebbe essere un bel problema Forse c'è un modo di farli entrare Non con questi sicuramente Quindi devo creare un metodo Che mi permette di fare entrare la roba più facilmente Credo che probabilmente uno per funzioni Quindi vediamo un po' se questa cosa funziona Io ho messo qui dentro a farli un'ascia, ok In sostanza mi sa che uno stack di questo dovrebbe essere abbastanza Per poter fare un'ascia In realtà 960 abbastano perché l'ascia vale 776 Quindi vediamo un attimo se butto questa roba qui dentro Se mi fa uscire l'ascia Lascia, esce ragazzi in automatico finisce qui dentro forse No, non finisce qui dentro Quindi mi serve qualcosa che mi faccia questa cosa automatica Quindi a questo punto mi sa che mi conviene Per forza, dico per forza Farmi un macchinario del Nenderio Quindi mi sa che mi conviene fare il nostro Dove sta, dove sta Non so Gmil ma lo Lewis Melter Per poter craftare un po' di roba Quindi devo farmi questa roba ragazzi Che comunque non è difficile Quindi ci facciamo effettivamente un coso di questo E con quello cerchiamo in qualche maniera di andare avanti Perché l'unico modo che posso utilizzare il primo momento per fare roba E utilizzare questi conduit Perché se no altrimenti non si può fare niente Ok, ho fatto un attimo questa cosa ragazzi Che comunque sapete come si fa il basic capacitor Credo, sì Molti di voi lo sappiano effettivamente E ci facciamo quindi anche questa roba Ovvero un paio di iron bar E dovremmo un attimo fare Quindi se ricordo bene 1, 2, 3 So già che ho sbagliato Perché probabilmente sarà il contrario Il crafting E uno di questo al centro Infatti è al contrario Ogni volta lo sbaglio Maledizione Bom Abbiamo il nostro magic casis E questo qui in automatico lo mettiamo qui Così in automatico lui lo impara Perché ha un valore ragazzi Solo per quello Ok, quindi abbiamo un attimo uno di questo Poi Che mi serve fare il solgm Anzi no Mi serve l'alloe smelter Mi serve effettivamente Delle fornaci Mi servono Quindi devo un attimo prendere un po' di cobblestone Oh Per gli amici possiamo fare una cosa molto più facile Ovvero prendere questa fornace Mettere questa fornace qui dentro Fare così C'è da 64 Ragazzi tranquillamente Andare qui facciamo Uno, due, tre Poi che altro serve Se non sbaglio Vediamo un po' Mi serve sicuramente Il caldron E dell'iron normale Quindi abbiamo tutto necessario Tanto il calderone Il calderone lo possiamo craftare Il problema è che Devo cambiare un attimo una cosa Perché in realtà Non posso craftarlo senza Una crafting table Quindi forse mi servirebbe Un'altra crafting table Perché Ne ho sempre bisogno di due Quindi meglio farne due ragazzi Che uno Conviene sempre E questo ragazzi Lo mettiamo qui dentro Tanto non serve Questo invece qua Perfetto Ok Quindi stavamo dicendo ragazzi Dobbiamo craftarci Quindi un calderone Eccocelo qua Boom E dell'energia Ci serve un vento Quindi devo anche dormire Perché è notte Quindi devo dormire Boom Allo smelter fatto ragazzi Per ora Andiamo a posizionarlo Qua vicino Che abbiamo l'energia Della nostra cosa qui Del solar panel Quindi prenderà l'energia Di qua Giusto Sì anche se qui Comunque ha finito L'energia Giusto E qui dentro Quindi devo farmi ragazzi Questi qui Pulsati in iron Che si fanno con Iron e enderpearl Spero di avere enderpearl Se no me la crafto A questo punto pensavo Che effettivamente Mi converrebbe un attimo Eliminare questo Direttamente Metto un attimo qua Così utilizzo l'energia Ragazzi Per far passare la roba Perché qui si può Si riempire più facilmente Adesso con l'energia Quindi funziona meglio Il problema è che Non sta trasferendo energia Come mai Ok allora lo sta facendo Perfetto E vi dicevo O c'ho l'enerpearl Oppure non ce l'ho In realtà L'enerpearl si può anche craftare Quindi non abbiamo problemi Di nessun tipo Però ce ne abbiamo già due Quindi non avremo problemi Di nessun tipo Questa cesta va eliminata ragazzi Mi dà molti problemi Non riesco a utilizzarla Al 100% Quindi è un pochetto Pallosa adesso Quindi dovrò anche migliorarla In ogni caso Una di questa Più un pezzo di ferro Ragazzi Mi daranno in sostanza Questo iron Questo iron in realtà Noi dobbiamo trasformarlo In nugget Perché dai nugget Ragazzi Possiamo farci I nostri item conduit E quindi trasferire questa roba E migliorarla al 100% Così non avere più problemi Di nessun tipo Quindi adesso Dovremo fare tutto quanto Il vero problema Poi sarà craftare Altre piccole cose Però ci penseremo Nelle prossime puntate Non preoccupatevi Perché per il momento A me interessa Fare in questa maniera Un primo sistema Poi nella prossima puntata Cosa facciamo Andiamo a sistemare Anche la fabbricazione Che lo fa in automatico Senza utilizzare Nessun materiale In realtà sarebbe conveniente Diciamo questa cosa Che sto dicendo adesso Però in realtà Sarebbe meglio Far sì che ci sia Uno scambio equivalente Perché dell'energia Creata dal nulla Sarebbe un pochino Troppo cittosa E in realtà È così Per questo Però vabbè Dettagli non ci importa Al momento Dicevo comunque Un paio di questi ragazzi Con dei conduit A proposito Guarda il problema Che abbiamo dei conduit E io non ce li ho per niente Questi qua Quindi a farmi questi Con dot binder Che si fanno con gravel Clay e sand Il problema che mi sa Che non ho Né gravel Né clay Né sand No la gravel ce l'ho C'è la clay La gravel forse No nemmeno la sand Ho preso uno stack intero Di tutto ragazzi Quindi cerchiamo direttamente Adesso i conduit E probabilmente Utilizzeremo tanto questi Perché in realtà Ci sono altri conduit Di altri tipi Però stiamo ragionando Su quali mettere Al certo per cento Sicuramente Presto presto Arriverà anche la meccanismo Sul nostro server Perché effettivamente Ne ho davvero bisogno Quindi vorrei in qualche maniera Che questa arrivi da noi Perché davvero Ne abbiamo bisogno tantissimo Ragazzi Immaginate che La meccanismo Ci leverebbe Molti dei problemi Che abbiamo al momento Quindi preferisco Effettivamente farlo In maniera abbastanza tranquilla Si poteva utilizzare Quella fornace per cuocere Però Ehi perché no Va bene anche questa Questa roba viene Non ci serve più Perché Ehi non serve a niente Non abbiamo fatto questi binder Ma in realtà Noi va bene questi qui Quindi questi qua ragazzi Li possiamo buttare tutti Adesso che non ci interessano Ne interessano questi Quindi prendiamo uno stack Di questi Perfetto E adesso mi serve anche Uno stack di questi In realtà uno stack Non sono proprio necessari Bastano questi qua Facciamone magari Un paio per iniziare E poi tanto In futuro Ne utilizzeremo davvero pochi Quindi non preoccupatevi Adesso è giusto per fare I tamarri Che ne abbiamo tantissimi Ne abbiamo quindi ci può stare Vediamo un po' se questa cosa funziona Io spero ovviamente di sì Perché se no abbiamo problemi E quindi vediamo un po' Facciamo extras Qua facciamo un bel import Tranquillamente E in automatico dovrebbe Craftarmi la roba Però vediamo un attimo A mettere qualcosa qui dentro Che in automatico Mi vada a far cose Vediamo un po' 3000 1700 800 Vediamo un attimo Quindi questo mi farà un'ascia L'ascia dovrebbe in automatico uscire E entrare qui dentro Il problema è che non lo fa nemmeno con questo E quello è un problema Quindi come diamine posso fare A far uscire la roba ragazzi Non vorrei che Effettivamente il problema fosse L'ingresso di qua Magari c'è un ingresso Che possiamo fare ma non da lì E dove diamine possiamo fare entrare la roba Dal lato forse Proviamoci Ok ragazzi allora Entra ma entra soltanto dal lato Quindi qui sopra Dobbiamo un attimo fare Disable Perfetto E a questo punto Leviamo direttamente questo Facciamo direttamente qua al lato Ragazzi Extras così Mi fa uscire soltanto questa roba Che sta qui E in automatico Mi mette la roba qui dentro Quindi in automatico Adesso farmeremo gli alberi Una cosa che ho visto Che vorrei fare in realtà Nel prossimo futuro È un ring Che mi provate anche di far Crescere velocemente gli alberi O altre cose Peccato che comunque Non c'è la nostra thermal E anche di sistemare questa cosa Con qualche altro macchinario C'era qualche altro macchinario Che funziona allo stesso modo Si spera Vediamo un po' se questo sampling Cresce Mi sa proprio di no Perché effettivamente Sta messo qui No che cresce Solo che ci mette un po' di più Però alla fine adesso Dovrebbe rompere tutto quanto E farmi un po' di roba Quindi in off camera ragazzi Adesso avremo a disposizione Un po' di roba Problema Dobbiamo in qualche maniera Anche a fare arrivare L'energia qui dentro Quindi come fare Il metodo più facile Probabilmente è quello più semplice Secondo me È anche quello di utilizzare Delle energie solare Per creare diciamo Altre cosette Ma lo vedremo preoccupato Di primo momento Comunque ragazzi Io direi che per questa puntata Potrebbe essere anche tutto Vi ringrazio Guardate com'è Anche questa nuova puntata Noi ci vediamo presto A un nuovissimo video E andremo alla ricerca Di altre case ragazzi Perché presto presto Andremo a sistemare Anche il nostro sushi bar Quindi sinceramente Vorrei un attimo Migliorare il mio sushi bar Per farlo più figo E più bello Appena possibile Con del bel riso Quindi devo comunque Esplorare e fare altre cose Ciao ragazzi E al prossimo video Ciao